Amici, come avrete letto dal titolo, ebbene sì, il video che andrete a vedere sarà di 5 mesi fa, l'ho ritrovato totalmente a caso nel mio computer e ho detto, ah, perché non riportarlo? Però, devo fare una piccola permessa doverosa. Uno, 5 mesi fa ero molto più scarso a fare video, nettamente, e si vedrà la differenza. Due, la qualità della webcam, sì, c'è, però diciamo che ultimamente ho comprato delle luci un pochino migliori e quindi magari si può vedere la differenza, ma niente di troppo importante. Spero che il video vi piaccia, non giudicatemi per come ero 5 mesi fa, anche se si vede tantissimo la differenza, spero che vi possa piacere, vi invito a lasciare un piaccio, un commento, condividere il video, e vi lascio al master del passato, ma molto passato. Che storia, c'è gente, è buono, ma sai che a Foschi non ci vado da una vita, anzi ci sono scesi tipo 3 volte. C'è un tipo, 2 team. Qua c'è un tipo, sì, ma non sembra furbo. Perfetto, mega extra cheat, non sembra furbo, gli ha aperto. Arrivo. Sì, ma i 30 col pompa. Perché te ne vai lontano? Perché te ne vai lontano? Ma muori! Dai, c'è il socio. Sì, c'è il socio, non ho materiali. Fatto! Ah! Ah! È morto, è morto. Tutti morti? Tutti morti, non chiedermi come. Ok, Marco sei stato bravo. Io mi sono ucciso con la terra. Sei stato bravo. Dai, almeno dovremmo avere liberato Foschi, in teoria. Oh, c'è gente! Finalmente! Dopo anni. VITA! 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 Sato! 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 Eh, vabbè, mi ha sgamato. Eh, sato! Eh, vabbè, eh, vabbè, quanto so storto. Scassato! 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 Però là non si ricorda neanche più come si chiama. Occhi, occhi, vieni, 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 pushia, pushia. Ma uno è un pollo, eh. Uno è già più bravino, uno sembra un idiota. Quello lì a cui stai sparando sembra un pollo. È un pollo, eh. Eh, ho fatto cose di... Vai, vai, andiamo, focusati su di lui. Lo sgranello un po'. Terra. Terra, bravo. Vieni, vieni da questo, ora che siamo 2v1. Colpo in testa! Colpo in testa! Ok, ci sono stati bravi. Posso schiudo? Sì, posso schiudo. Eh, l'altro l'ho evitato. No, bravo. Dai, quanti chili abbiamo? 4. Not bad. Oh, vedi come si fa? Stiamo vicini e ce li facciamo tutti. Vabbè che uno... Ah, c'è colpi di cerco, Marco. Questo lo devi dire a te stesso, non a me. Eh, però. No, no, cazzata. Vieni insieme, andiamo insieme. Eh, no. No, no, Marco! Eh, no. Prenderemo questo rischio. Prenderemo il rischio. Ci assumiamo le nostre responsabilità da avere uomini e persone mature maggioremi. Sì, ti è una cecchina. C'è chi, andata, godo e poi chiuso il video. Oh, gente davanti. Mega barrettata! 150! In the face! We're gonna see Master in a 1v1 situation. Vuole pushare. È a sinistra. C'è a sinistra, l'ho visto. No, no, please, no, please. No, una famiglia, una famiglia, un figlio. No, ma stai fettando. Si, sto fettando il tipo e c'è l'altro tipo che mi spara. Usa la jump, usa la jump. Ah, ma quante persone ci sono che mi spara? No, no, no. Dai, pusciamo questo che da solo, vieni. No, 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 no. Non funziona così. Facciamo così, prendiamo l'altezza, stiamo un attimo in altezza. Ci sta pusciando un idiota. Ma scappiamo, Marco, scappa, 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 scappa. No, Marco, è la figlia. È la figlia, io me lo sento. Scappa, please. Please, scappa. O ci muoio io, o ci muori tu. Va bene, lo uso la mia jump, addio. Io l'ho usata, no. Ok, bravo, davvero. Eh, c'era troppa gente, il rischio di morire era altissimo. Da un momento all'altro su sponda ti tocco un rapino. Eh, niente. Usa l'altra jump. Ah, qua. Via, 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 via. Altra gente, basta. Basta, però c'è un'altra jump, non pusciarlo, prendi la jump. Prendi la jump, prendi la jump. Vieni, 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 vieni. Facciamo gli schifosi. Non andare sulla montagna, vieni di qua. Ci siamo salvati, c'era troppa gente. Vieni, vieni, vieni che prendiamo l'altezza. Dai, tira fuori la testolina, tira fuori la testolina. Bene. Io ho tagliato le unghie. No! Oddio, mi è entrato il colpo ma non mi è entrato. Che situazione alquanto fa... Imbarazzante. Scappa. Scappa, scappa, scappa. Facciamo i conigli, va. Just for fun. Ah! Mi è entrata di nuovo una cecchinata che non mi è entrata. Ok. Ok. Vabbè, mi sparo a caso. Ok, boom. Eh, c'è gente. C'è gente, c'è gente. Sì, 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 sì. Sì, sì, lo sapevo anche che c'era gente. Io lo sapevo. Cioè, so stupido allora. È qua giù, è qua giù. Cioè, è qua su. So stupido, lo sapevo anche. Che imbecille. Vabbè, è tutto nelle tue mani. È sul tetto. È uno solo? Sì. Oddio. Marco, Marco! Ok, vai al reboot. Non lo talmi le cose, vai al reboot. No, non ce la fai. È tutto nelle tue mani. Sei il vero protagonista. Ok. Io non dico niente. Bravo. Uh, uh, uh. Sì. Forse è uno, uno, uno. Eh, per forza. Vabbè, tu stai qua in altezza. Che schifo non fa. Vai, no. Razza mi qua. No, uh, uh. Sei un pazzo. Oh, zì. Cosa fai? Non stai combinando. Eh, devi pusharlo. Boh, buttati. Eh, si sta curando. Niente. Che sfiga. Bravo, Marco. Bravo, Marco. Sai che non me lo sarei mai aspettato? Non so di concludere il video di tragedia. Invece, concludo il video facendoti complimenti. Bravo.